La tregua addoganale fra Stati Uniti e Cina, siglata durante il G20 nella capitale argentina con la rimozione dei dazi al 40% sulle automobili a stelle strisce da parte di Pechino e un cessate il fuoco di 90 giorni necessari alla ripresa delle trattative, segna una giornata di rialzo per le borse europee. L'entusiasmo di Trump espresso in un tweet ha eccitato poi i mercati finanziari. Stiamo assistendo a un enorme incremento delle esportazioni tedesche, automobili, elettronica, chimica, macchinari, li vendiamo in tutto il mondo, speriamo che quel che Trump ha fatto con i cinesi lo faccia anche con noi, spiega un economista tedesco. Anche Wall Street vola sulle ali della tregua dopo l'apertura dei mercati a New York con il Dow Jones che avanza dell'1,70%, il Nasdaq che guadagna il 2,09%, resta in territorio positivo anche l'indice S&P 500 che sale dell'1,42%. L'indice Fuzze a Londra ha terminato poi le contrattazioni in crescita del 2,26%. Quello sulle auto è stato l'ultimo fronte commerciale emerso la scorsa settimana in vista del summit tra i due leader.